Grazie al prodigioso e tempestivo intervento del finanziere Gianluca Pappalardo in servizio presso la tenenza della Guardia di Finanza di Lentine, un ragazzino è stato salvato in tempo mentre stava facendo un giro in giostra aerei installato e incontrato a Santuzzi in occasione della festa di Santa Tecla. Il giovane infatti mentre stava facendo un giro su un aereo della giostra improvvisamente si è sentito male ed è svenuto. Scattato l'allarme il meccanismo è stato tempestivamente bloccato per soccorrere il ragazzo. Fortunatamente nei pressi della giostra si trovava il finanziere Gianluca Pappalardo che con prontezza di spirito è riuscito a rianimare il giovane malcapitato che stava per soffocare. L'intervento rapido del finanziere infatti è servito a liberare le vie respiratorie del ragazzo occluse dalla lingua. Grazie quindi al prodigioso e tempestivo intervento di Gianluca Pappalardo che tra l'altro era fuori dall'orario di servizio è stata evitata una tragedia. Il ragazzino intanto subito dopo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale dal personale del 118 dove i sanitari ne hanno ordinato il ricovero in corsia.